CERSAIE Ieri ho avuto la fortuna di fare un bel giro a Cersaie e ho potuto notare innanzitutto veramente un grande movimento e questo comunque ci dà una bella spinta e un grande ottimismo. Ma poi ho visto come sia stato un grande successo l'iniziativa di Cersaie disegnato a casa dove quest'anno poi in maniera particolare essendo il secondo anno c'è stata anche un'idea di organizzazione per cui avevano degli appuntamenti e c'era proprio l'interesse da parte dei proprietari di casa di vedere realizzati i loro progetti. Quindi secondo me questo è quello su cui bisognerebbe indirizzarsi perché sempre più bisogna cercare di far capire ai possibili fruttori finali quanto sia importante usare le cemre aramiche e che non sia difficile usarle. Questo è importante che capiscano e quindi direi che Cersaie ha disegnato a casa e in questo senso ha colpito nel segno.